Ciao ragazzi e benvenuti su Casture Drums. Oggi insieme a strumentimusicali.net andiamo a vedere tutti i regali, tutte le cose, tutte le varie opzioni che ognuno di noi ha per fare un regalo, per farsi un regalo di Natale, per fare tutto quello che vogliamo. Quindi che voi siate cugini, parenti, mariti, mogli, fidanzati, genitori, nonni, gatti, cani e volete fare un regalo al vostro... che ne so, vabbè, qui dentro sicuramente c'è qualcosa che vi può interessare perché oggi andremo a vedere tantissimi regali, 7 più 1 regali che fa 8, però vabbè era bello da scrivere così, che possono interessare a un qualsiasi batterista e soprattutto la cosa super interessante è che qui dentro ci sono regali su qualsiasi fascia di prezzo. Quindi se voi volete spendere 5 euro, se ne volete spendere 50, se ne volete spendere 100, potete farlo perché qui dentro c'è tutto, c'è tutto quello che vi serve. Quindi io, a parte ricordarvi di iscrivervi al canale perché tanti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono, ve lo dico tante volte ma la percentuale di quelli che guardano i video ma non si iscrive è troppo alta. Quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi e dopo aver detto questo posso partire con la sigla e poi andiamo con i primi unboxing. Come vi ho detto possiamo partire tranquillamente con l'unboxing di questo pacco gigante. Quindi coltello è là. Ta-daa! Allora il video di oggi sarà un po' particolare perché non ci sarà un unboxing unico e poi vi faccio vedere tutte le cose perché le cose sono talmente tante che se vi facessi un unboxing unico a metà video vi sareste già dimenticati che cosa ho unboxato all'inizio del video. Quindi vi farò vedere pian pianino che cosa c'è qui dentro. Allora partiamo da solite cose qua. Allora partiamo dal super economico facciamo le due cose più economiche di tutte che sono allora questo no non ci arrivo eccolo uno è questo uno è questo. Ce l'ho fatta. Partiamo con questa cosina qua molto piccola ma super 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 interessante e adesso ve la apro e ve la faccio vedere. Questo praticamente è una punta che è una punta da batteria normalissima come potete vedere però questa è una punta da trapano quindi voi praticamente vi ho già fatto un video di questa cosa che vi lascio qui in una scheda ma in pratica questo lo attaccate al vostro trapano a qualsiasi trapano funziona per qualsiasi trapano come vedete questa è una di quelle punte che appunto entrano nei trapani e poi potete andare ad avvitare o svitare il vostro tamburo della vostra batteria qualsiasi tamburo ovviamente perché è una vite di quelle standard da batteria e potete avvitare o svitare quello che volete. Io vi consiglio di svitare con questa vite perché andare ad avvitare quindi ad accordare una batteria in questo modo non è così semplice. C'è chi ce la fa però non è così semplice se dovete cambiare le pelli in due secondi avete svitato tutta la batteria invece che mettervi lì con la chiavette andare a svitare con le dita eccetera con questo lo fate veramente in un minuto al massimo avete svitato tutte le viti della vostra batteria. Ovviamente tutto lo trovate sotto in descrizione mi raccomando quindi numero uno dei regali per natale poco costosi questo costa poco ed è super utile ragazzi ora quando l'ho scoperto non ne faccio più a meno. Poi secondo dove l'ho messo già non lo trovo più. Eccoli qua ragazzi i TAMA Tension Lock questi qua sono una figata pazzesca li ho provati poco tempo fa e sono molto molto belli perché praticamente servono per non far scordare la propria batteria cioè se voi avete problemi di accordatura cioè che i vostri tamburi non tengono l'accordatura si scordano eccetera 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 mettete questi qua sono super semplici da mettere magari se riesco anche a tirarveli fuori che sono proprio delle cosine minuscole da mettere su ogni vostra chiavetta del tamburo diciamo e questi essendo fatti in questo modo con questa forma non fanno muovere la vite che tiene il tamburo tirato perché se la vite prova a girarsi questa fa pressione e quindi non permette alla vite di girarsi. Non ho fatto una bella spiegazione ma spero abbiate capito e voi mi direte sì ma cavoli il mio tamburo il mio rullante ad esempio ha dieci tiranti e qui ce ne sono solo qui ce ne sono solo sei e quindi come facciamo non vi preoccupate perché non dovete metterli per forza tutti i tiranti del vostro tamburo metterete solo ai tiranti che ne hanno bisogno e i tiranti che ne hanno bisogno quali sono quelli dove andate a colpire di solito se voi molto spesso fate il rimshot con rullante non andrete a mettere i vostri tension lock nella parte davanti del rullante ma li metterete solamente ad esempio nelle 4 o 5 viti dietro dove battete in questo modo fidatevi non vi si scorderà più il rullante o il tom ricordatevi però che non dovete metterli a tutte le viti solo quelle dove suonate perché se no dovete spendere un sacco di soldi per comprarvi tantissime di queste e ok non si scorda più niente però non c'è il caso quindi se volete spendere poco se siete ad esempio dei chitarristi che non ce la fate più a suonare col vostro batterista che suona sempre con un suono diverso di rullante che gli si scorda sempre il ton che fa sempre i casini comprate gli queste e vedrete che vi ringrazierà e poi voi sarete contenti quindi è uno scambio di vabbè fa niente andiamo a quello dopo voglio farvi vedere una cosa super 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 interessante cioè questo kit della gibraltar questo è un kit veramente molto 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 comodo perché ha all'interno delle cose che possono sempre servire mettete che siete in un live mettete che siete a casa e dovete oppure siete in studio in studio di registrazione e vi serve quel pezzettino vi serve quel feltrino vi serve quella vite che ne so questo è una delle cose più utili secondo me che vi sto consigliando in questo video perché in pratica qui aspettate un attimo che ho fatto qualche casino qui ci sono tutti accessori che vi possono essere utili quindi voi vi portate questo sacchettino in giro e qualsiasi cosa capiti voi siete tranquilli perché ad esempio vi si è staccata una vite non la trovate più ci sono una due tre viti compatibili ovviamente con qualsiasi mettimi a fuoco ti prego la mano dai ti prego ok oppure non avete più la parte sotto dell'asta quella che tiene il piatto perché l'avete persa che cavolo ne so ecco qui due oppure questione feltrini ce ne sono una marea guardate anche di quelli grossi che sono super comodi un sacco di feltrini per qualsiasi tipologia di asta poi ci sono anche i due feltrini per tenere il charleston oppure il feltrino sotto il charleston oppure questo qua che è il kickpad cioè se voi andate in giro e vi siete dimenticati il kickpad e magari non avete una pelle se per caso vi si rompe e che ne so gli mettete questo qua che potente è bello spesso e non avete problemi di rottura della pelle in più qui che cos'è questo in più c'è una chiavetta e poi questi non so cosa siano forse questi sono quelli da mettere all'asta per non far rompere il piatto ovviamente se voi appoggiate un piatto direttamente a un'asta rischiate che si rompa un po invece dopo questo poi andate a mettergli questo sopra gli appoggiate il piatto con i vari feltrini e siete a posto oltre questo c'è anche questa cordicella che però non so sinceramente che cosa serva ma me lo direte voi nei commenti perché non me lo ricordo non so cosa sia in realtà questa è una figata perché vi salva la vita questo è veramente il salvavita del batterista secondo me è un regalo perfetto andiamo avanti adesso vi faccio vedere qualcosa poi andiamo anche alla batteria è arrivato il momento della batteria ah no ma ho sbagliato aspettate non me ne erano scesi un po i tension lock sono molto più di sei i tension lock sono dieci quindi con uno di questi che costa non molto devo dire potete fare tutta la batteria perché facciamo quattro sullante tre su un tom tre su un timpano quanto siamo siamo a dieci perfetto adesso vi faccio vedere altre due cose super interessanti la prima è questa ma non vi dico che cos'è vi lo dico poi bene dopo quando andiamo alla batteria mentre la seconda è una cosa che voglio provare da un sacco di tempo ed è questo qua ragazzi il pad quieton della sabian questo qua deve essere una bomba pazzesca un pad con le pelli mesh ma che è una figata super ma vi spiego anche il perché se riesco ad aprirlo forse si apre così non lo so ah eccolo qui così come sapete a noi batteristi un pad serve sempre questo è perfetto perché praticamente ha un po di figate nel senso per prima cosa come potete vedere ha questa pelle mesh quindi una pelle molto più simili ai pad normali fatto veramente 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 molto bene questo pad sembra più un tamburo che ha un pad devo dire anche perché ha la possibilità di girare queste chiavette e quindi diminuire aumentare la tensione facciamo così andiamo alla batteria così vi faccio vedere questo è l'altro oggetto misterioso che vi ho fatto vedere prima come potete vedere ho già montato il mio pad quieton su questo reggio rullante ma poi vi farò vedere una sorpresa nuova ma prima vi faccio vedere quello che non ho aperto e cioè in pratica questa è una cosa molto molto utile per noi batteristi perché in pratica che cos'è è un portabacchette ma super 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 interessante perché questo è un portabacchette cioè questo in pratica che però possiamo utilizzare in vari modi nel senso come potete vedere di qua ci sono queste vitine che in pratica ci permettono di andarlo a posizionare ad esempio su una qualsiasi asta se noi vogliamo andare a metterlo sull'asta del charleston lo possiamo fare tranquillamente perché questa esce lo mettiamo all'asta del charleston e siamo a posto in realtà lo possiamo mettere su qualsiasi asta su quella del charleston su quella del piatto di qualsiasi cosa ma io dato che perdo sempre le bacchette ho deciso di prenderlo per mettermelo alla scrivania nel senso lo attacco a una delle gambette della scrivania e tutte le mie bacchette le vado a mettere qui dentro perché non ho un posto in cui metto le bacchette in cui posizione tutte le mie bacchette di solito le butto tutte in un cestino dove ho tutte le bacchette però quello occupa spazio poi è un cestino quindi è brutto invece questo qua io me lo posiziono sulla scrivania gli metto tutte le mie bacchette di cui ho bisogno ce ne stanno un bel po come potete vedere anche di qua quindi all'interno ci stanno tutte quelle che servono e io tutte le bacchette a posto nel mio studio quando me ne serve una la riprendo poi la rimetto dentro e sono a posto quindi questo l'ho scelto perché prima cosa è bello è capiente è pensato da mettere sulla batteria nel senso da mettere al charleston vi faccio vedere come in pratica dato che prima non ve l'ho fatto vedere sarebbe teoricamente da mettere così poi noi gli andiamo a infilare tutte le nostre bacchette dentro più in alto allora più in alto più in basso potete metterlo dove volete ma io come vi ho detto ho deciso di non metterlo alla batteria ma di mettermelo come portabacchette quindi questo è un regalo che secondo me qualsiasi batterista vorrebbe chi lo usa montandolo sulla batteria chi lo usa come me montandolo come portabacchette per lo studio quindi questo è molto figo adesso al pad questo pad qui è veramente una bomba pazzesca per prima cosa è una bomba perché se io non ho una chiavetta dove è una chiavetta aspetta non è una chiavetta ma in realtà sì perché posso andarmela a prendere nel mio kit della gibraltar dove c'è anche una chiavetta quindi devo ricordarmi poi di metterla a posto lo metto qui così poi mi ricordo di metterla a posto posso su questo pad girare le chiavette quanto voglio e in pratica andare a decidere la tensione della mia pelle quindi non fa rumore perché poi adesso voi lo sentite forte perché è microfonato però fa il rumore di una pelle mesh quindi proprio poco 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 ma possiamo tranquillamente andarlo a mollare o tirare come vogliamo quindi se noi ad esempio dobbiamo studiare i polsi lo andremo a mollare tantissimo come sto facendo io in questo momento così almeno testo anche il rimbalzo vedo quanto rimbalza questa è una tensione più o meno di un timpano infatti rimbalza veramente poco invece volendo noi possiamo anche andare a tirarlo di più per poter fare gli esercizi come se fosse un pad solito il fatto però è che avere un pad del genere per prima cosa non costa molto questo pad come vi ho già detto avete tutti i link in descrizione così non sto a dirvi prezzi eccetera ma il fatto è che studiare su un pad del genere ci permette di studiare come se fossimo alla batteria veramente io consiglio sempre se possibile di studiare su un pad che rispecchi il più possibile il suono e soprattutto non tanto il suono ma il feeling che abbiamo sulla batteria questo pad ci permette di avere lo stesso feeling praticamente che abbiamo sulla batteria è vero una pelle mesh non è una pelle normale ma è praticamente la stessa cosa avendo la possibilità di tendere diversamente le chiavette in questo modo riusciamo veramente ad avere quasi lo stesso identico feeling che avremo sulla batteria e in più possiamo anche scegliere che feeling vogliamo se vogliamo il feeling del rullante quindi un po più tirato il feeling dei tomo il feeling che abbiamo sul timpano e quindi tenerlo super 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 morbido poi andando avanti ultime tre cose una cosa che secondo me un batterista fa sempre piacere perché i batteristi non molto spesso se li comprano ma se li ricevono per regalo gli fa sempre piacere e cioè uno splash questo è uno splash della mail minor come si dice da 12 pollici hcs e viene veramente 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 poco quindi è un regalo fattibile diciamo da tutti non è come i soliti piatti che costano un sacco e quindi non è che puoi regalare un piatto anche piccolino ma spendendo magari 100 euro 120 questo costa molto molto meno un terzo praticamente e comunque funziona molto bene adesso ve lo faccio vedere alla batteria ma ve lo faccio vedere insieme ad altri due oggetti che sono gli ultimi due oggetti di questi otto oggetti per il regalo degli oggetti di natale e cioè per poter mettere questo splash alla batteria abbiamo bisogno di un'asta e quale asta migliore di questa gibraltar qua che cos'è questa gibraltar questa è una mezza asta tra l'altro vi ho fatto un po di video anche dove faccio vedere mezza ste altre cose di hardware ve lo lascio qui in una scheda che in pratica allora ve lo apro vi spiego brevemente che cos'è poi ve lo faccio vedere direttamente alla batteria in pratica le mezze aste sono delle aste che si attaccano direttamente a delle altre aste non so se avete capito spero la spiegazione sia stata abbastanza esaustiva in pratica dai esci come vedete qui c'è una clamp con un buco tutte le clamp hanno un buco perché perché qui gli andiamo ad inserire un'altra asta quindi noi andiamo ad attaccare questa a un'altra asta e poi andiamo a gestire quest'asta qui come vogliamo e gli attacchiamo il nostro splash qua l'ultimo regalo che vi voglio far vedere che è un regalo un pochettino più costoso ma super e cioè questo zoom h1n questo è praticamente un registratore portatile che funziona a pile credo che può registrare direttamente la vostra batteria la batteria di chiunque o qualsiasi strumento in realtà anche le prove se andate con la band le può registrare direttamente su una schedina sd allora vediamo qui ci sono le istruzioni vabbè ma non ci interessano proveremo a usarlo anche senza istruzioni ci sono già anche le aia le pile e poi ecco qui il registratore piccolissimissimissimissimo quindi super portatile ecco qua questo è un registratore che costa poco andate nei link in descrizione e vedete quanto costa questo registratore ma è veramente poco e adesso vediamo come funziona perché io l'ho visto ho detto proviamo a prenderlo vediamo come funziona e quindi non l'ho mai provato sinceramente però solitamente la zoom fa cose molto interessanti per la registrazione anche così con un semplice microfonino questo a due microfoni in realtà messi ad y cioè messi così e vediamo come funziona adesso incomincio ad andare a mettere le pile vedo cosa mi dice e poi vado a suonare la batteria così sentiamo il microfono mentre sentiamo anche il mio splash attaccato sull'astra gibraltar quindi accendiamolo allora come vedete prima di accendiamolo si è acceso quindi allora inglese oppure giappone inglese oggi che giorno è ma non mi interessa vai 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 l'unica cosa da comprare è un sd perché lui vuole una micro sd messa qui dentro come potete vedere quindi una micro sd che però non serve chissà che micro sd con 10 euro ne comprate già una abbastanza grande anche perché già magari con 8 giga ne fate un bel po' di registrazioni quindi andiamo a mettergli un sd dentro ok e adesso in pratica è molto semplice perché noi possiamo andare a settare un po' di cose la cosa più importante da settare ragazzi è la soglia diciamo cioè dovete cercare dovete fare un po' di prove con questi aggini qua ma in pratica dovete stare attenti che non clippi cioè qui non vada in rosso come potete vedere vedete che se io parlo più forte a a a a vedete che ogni tanto se io mi avvicino a a a sembro stupido però vabbè era per farvi capire questo rec qui diventa rosso perché sto suonando troppo forte quindi devo praticamente andargli ad impostare un po' di parametri per dirgli guarda che anche se suono fortissimo tu non devi clippare cioè non devo poi sentire nella registrazione ma devo sentire bene quindi facciamo così tolgo i microfoni nel senso spengo tutti i microfoni che ho la batteria metto questo microfono qui davanti alla batteria poi ovviamente il consiglio che vi do è di fare un po' di prove nel senso una volta davanti alla batteria poi provate a metterlo sopra magari al contrario in questo modo qua come panoramico fate un po' di prove perché così capite dove funziona meglio come posizione quindi la cosa figa che ho visto adesso è che qui dietro non so se riuscite a vederlo oppure no ma qui dietro comunque ve lo dico io c'è una ghiera che serve per attaccarlo a un'asta quindi voi potete attaccarlo avvitarlo a un'asta lo avvitate così girate girate e lui sta fermo così almeno lo potete posizionare in qualsiasi modo oppure semplicemente lo potete appoggiare da qualche parte o così oppure appoggiarlo anche in questo modo qua magari lo appoggiate in modo che le due capsule non tocchino con niente diciamo in questo modo qua e lui riprende molto bene infatti io lo metterò così che punti verso la batteria vediamo cosa succede proviamo andare a suonare tutta la batteria così intanto vi faccio sentire anche lo splash che ho messo eccetera eccetera grazie a tutti quindi ragazzi io con questo la finirei qua perché ho già parlato fin troppo oggi oggi ho parlato tanto vi ho fatto vedere tante cose quindi spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo video vi sia servito spero abbiate trovato il regalo di natale perfetto per voi perfetto per la vostra fidanzata perfetto per il vostro padre non lo so perfetto per chiunque se avete qualsiasi domanda qualsiasi cosa da chiedere qui sotto nei commenti me la potete scrivere se avete altri regali che secondo me oggi sono perfetti scrivetemeli qui sotto nei commenti così almeno diamo spunti in più e vi ricordo qui sotto trovate tutti i link che vi servono a tutti i prodotti di cui vi ho parlato oggi e basta io con questo direi che la finisco qua voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di farvi vedere questi regali per avermi mandati e io basta vi saluto direttamente qua e mi raccomando siate buoni e fate molti regali ai vostri amici batteristi cosi fidanzati eccetera vabbè ci vediamo al prossimo video ciao